Dopo il grande successo del progetto Rialbero dell'anno scorso abbiamo pensato di rifare quest'anno la collaborazione con Amia in quanto sappiamo benissimo l'attenzione specialmente che ci sarà in questo Natale per l'ambiente. Cosa succede? Succede che Amia metterà qui a disposizione un container per poter smaltire in maniera corretta gli alberi vecchi che ci porterete. Sappiamo che sotto le feste l'80 per cento anche 85 per cento degli alberi che vengono venduti sono artificiali quindi l'albero artificiale negli anni ha subito anche delle trasformazioni quindi è fatto con materiali molto più sicuri perché sappiamo benissimo che come erano fatti una volta sono pericolosi in quanto a volte a contatto con le luci potevano incendiarsi. Quindi smaltiamo gli alberi in maniera corretta facciamo anche quindi non solo un'operazione ecologica ma anche un qualcosa per la sicurezza personale. Noi come Floridea abbiamo pensato di premiare chi verrà a portarci l'albero vecchio con un 20 per cento di sconto sia su un albero artificiale che un albero vero ma nello stesso tempo avrete qui a disposizione i nostri collaboratori che vi diranno come mantenere l'albero nella maniera più corretta per le feste. Vi ricordo che il progetto Rialbero inizierà l'11 di novembre e si concluderà il 6 di dicembre. Approfittatene per cambiare il vostro albero con uno più bello e più sicuro.